Scusate, mi ha rubato una mela. Comunque se volete chiamare l'ambulanza, fatelo. Però cominci pure a pensare come gli devi spiegare quello che è successo. Che gli dici? Che un ragazzino disarmato mi è entrato in casa? Che tua moglie gli ha sparato? Magari mentre stavo scappando. E poi? Che gli dici? Che a te te ne sei sequestrati porto a darmi la pistola? E che questa qua? Te lo dico io? E questo che gli dici? E no. Perché c'è nella merda pure a me. E questo mi sta un po' meno bene. Penso che schifo è la vita. Dovino dove te lo rimediate questo? Da suo zio. E cosa dobbiamo fare? Chiamate quel ciccione di De Santis. È un medico. L'emorragia la saprà pure fermata, no? Poi sappiamo che cosa dobbiamo fare. Diggi che tua socia sta male. Diggi quello che vuoi, ma diggi che è urgente. Chiamano. Farà tutto quello che gli dico io. Ma io devo pisciare. Mi scusi, signore. Dov'è la tua letta? Allì sopra, vicino alla camera. Ascoltami. 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 Perché io li conosco bene. Sonia, questa gente ti rovinerà. Pensa a tuo figlio piccolo. Pensa a tuo figlio piccolo. Pensa a tuo figlio piccolo. Pensa solo a lui adesso. Pensa solo a lui. Brava. Brava. Prenditi questi soldi e tornatene in Romania, ragazzo. Ti prego. Adriano è venuto qui per rubare. Questo domani te l'hanno in paese. Sapranno di tuo fratello. Diranno che eri d'accordo con lui, che tu eri d'accordo con lui. Ne uscirai distrutta. Verderai tutto. Non crederanno a una parola di quello che dirai. Che pensi? Una donna di notte, sola, con i figli. Un ragazzo rumeno che gli entra in casa. Se voleva scappare. Se era armato, se non lo era. Non gliene frega un cazzo a nessuno. Farò arrivare il corpo di tuo figlio in Romania. Farò arrivare il corpo di tuo figlio in Romania. Farò arrivare il corpo di tuo figlio in Romania con il suo fratello. Lo porterò a lui. Farò arrivare il corpo di tuo figlio in Romania. Grazie.